era nell'aria era nell'aria però sapete no anche se non ci ho mai creduto è io non ci ho mai creduto a questa cosa negli ultimi giorni si era parlato di un eventuale rinnovo di contatto di delichte e il prossimo anno magari farlo partire con una clausola più bassa e tenerci ancora un anno questo giocatore no invece non è così notizia di ora fa praticamente è fatta per il bayern monaco cifre che sono quasi quanto richieste la juventus perché la juventus scrive almeno 90 milioni la juventus alla fine ha accettato 70 più bonus che da quello che ho capito questi bonus fanno alzare la cifra di parecchio perché si parla di un affare oltre gli 80 milioni quindi sparando un numero io penso che delichte con questi bonus a 85 milioni lo vendiamo e quindi è una cifra molto molto consistente è ovvio che c'è rammarico perché in prospettiva ragazzi perdiamo uno dei migliori al mondo io ripeto su questa cosa qua non non transigo in prospettiva perdiamo uno dei migliori al mondo in quel ruolo perché si delichte l'ho detto anche forse un altro video non mi ricordo ma lo ripeto sarò anche ripetitivo in questi termini di juventus non ha fatto il delichte che abbiamo visto all'ajax non ha mai esploso come comunque era forte quanto era all'ajax anche se comunque l'ultimo anno di allegri è lui che si è messo la difesa sulle spalle e in qualche modo a parte qualche errorino ci ha trascinati alle prestazioni risultati che abbiamo ottenuto però in difesa aveva fatto molto bene nell'ultimo anno però c'è anche da mettersi nei panni del ragazzo giovane arriva in un ambiente a torino che non è essere all'ajax e quando tu arrivi che c'hai sarri e poi cambi l'anno dopo c'hai pirlo e poi cambi l'anno dopo c'hai allegri capite anche un po voi che il ragazzo viene messo in difficoltà non è mai stato messo in condizioni di dir la sua perché dal momento che tu arrivi e in tre anni che sei qua cambi tre allenatori e automaticamente cambi tre modi di difendere il ragazzo non si è mai ambientato non ha mai avuto una stabilità fissa per giocare come sa giocare lui per questo delichte oggi va via 85 milioni che sono comunque tantissimi ma se di delichte avesse fatto il delichte dell'ajax per tre anni consecutivi o perlomeno per due perché il primo anno ci sta di transazione lo veniva ancora molto più alto molto più alto perché se vindo sei giocato come maguire che si è pagato di più delichte è un potenziale tre volte più forte di maguire quindi di cosa parliamo e qua ti va via un giocatore così giovane che ha una determinata esperienza europea ce ne sono pochi in giro come delichte veramente veramente pochi ora tocca correre ora ora tocca correre il juventus appena incassi questi soldi dal bayern monaco mettiti subito sul mercato e trovami due centrali di livello due centrali di livello perché ricordiamoci che oltre a matthes delichte la juventus deve anche prendere uno al posto di chiellini quindi ci vogliono due centrali di livello perché bonucci non è più il bonucci di una volta in sapere anche lui sui acciacchi poi sì c'è i gatti che però gliela puoi dare qualche chance ma non sa non è un non può fare il titolare secondo me già dal prossimo anno perché c'è i rugani ragazzi non scherziamo scherziamo eliminarla l'atlanta l'aveva riscattato delitto l'hai perso bonucci chiedini si è ritirato con la juve non gioca più giocare si in america ci vogliono due centrali di livello con 85 milioni due centrali di livello li puoi prendere sicuramente il primo che vorrei assolutamente non è neanche bremer e pao torres ragazzi pao torres perché è giovane non è giovane quanto delichte se non sbaglio proprio grandicello pao torres però ha esperienza europea e questa è una cosa che conta tantissimo tantissimo perché bremer è fortissimo potrebbe anche essere fortissimo in europa perché comunque non possiamo dirlo perché non ci ha mai giocato magari con europa anche lì fa bene il suo ruolo ma avendo zero e presenze europee io se proprio mi dovessi mettere una scelta tra bremer e pao torres io riprendo pao torres anche perché poi bremer è già promesso sposa l'inter domani c'è l'incontro tra bremer e la genente di bremer e cioè non l'agente bremer perché il bremer c'è già l'accordo con in realtà con con l'inter tra il torino appunto e l'inter per chiudere questo affare quindi penso che domani l'inter malotta sa fare bene il suo lavoro domani chiude e chiude la cosa l'operazione bremer la chiude domani quindi bremer ce lo possiamo scordare cerchiamo di chiare pao torres e affianco ragazzi affiancati chi vuole odio odio non chi volete un altro di livello si sente parli milenkovich però milenkovich ragazzi non lo so non mi convince tanto kim bepè vicino purtroppo al celsi pure kim bepè come a culibali e ci hanno già tolti questi giocatori qua quindi non possiamo acquistarli bisogna correre bisogna correre perché colibali al celsi kim bepè al celsi bremer molto probabilmente andrà all'inter quindi siccome non ci servono due centri di livello bisogna iniziare a muoversi velocemente perché poi uno va di qua uno va di là e poi tu rimani senza niente senza niente quindi pao torres è il primo poi milenkovich lo prenderebbe come ultimo potessi scegliere ragazzi io prenderei o gabriel anche poi pao torres e gabriel sono due mancini dicono che non si può giocare insieme ragazzi gioco calcio da una vita se due difensori centrali sono forti anche due mancini possono giocare insieme perché come giocano due difensori che sono destri centrali non vedo perché non si possa giocare con due mancini centrali io sta cosa qua non la capirò mai cioè tutti farsi questi problemi ma sono due mancini e quando giocano due destri cioè non è la stessa indica cosa no perché sono più rari i mancini cioè fatemi capire quindi gabriel con pao torres per me in attacco della madonna poi se non riesce a pigliare gabriel ad esempio perché pao torres lo voglio per forza e spero che la juventus me lo compri un acquisto del genere c'è sempre comunque badia shill che è un giovane molto giovane di prospettiva che se ci punti e rischi un po' sul ragazzo provi a buttarci la monetina no vai un po' a intuito magari potresti anche prendere il colpo della 90 perché badia shill ha dimostrato di essere molto forte alla sua età quindi io prendere anche lui c'è anche lui come ipotesi ma i vari milenkovic alcuni parlano anche di acerbi ragazzi ma come cacchio si fa a parlare di acerbi tu perdi chiellini scusate chiellini e delict e mi metti il nome di acerbi acerbi lo prendi per come come quarto cioè come quarto difensore perché è nato via anche demiral lo prendi a posto di demiral se proprio vuoi ma non esiste che tu mi fai nomi di acerbi perché deve essere il titolare ma non scherziamo proprio non scherziamo proprio ragazzi non scherziamo proprio i g allora i difensori ancora ci sono delict c'è l'accordo prima si sblocca a sto punto meglio è perché prima diamo i soldi prima la juventus può rinvestirli prima si sblocca sta cosa e meglio è ragazzi fidatevi perché più si perde tempo più i difensori che vogliamo nella nostra lista si cancellano perché vanno già da altre parti abbiamo visto con Kudibali abbiamo visto con Kim Beppe quindi bisogna darci una mossa date delict al Bayern Monaco a questo punto perché intanto è fatta il giocatore non rimane con noi e noi investiamo noi dobbiamo investire cioè con chi ci presentiamo se no al prossimo anno veramente non facciamo scherzi quindi ragazzi ripeto delict è del Bayern Monaco un contratto tra l'altro fino al 2027 quindi un bel contratto corposo per un po' di anni se lo giudicano i tedeschi e il contratto comunque si aggira intorno ai 13 milioni di euro alla fine prende quasi quanto peneva la Juve un pochino di più lì in Germania però ripeto il problema di delict non era tanto le cifre e i soldi perché anche la Juve guadagnava bene era il giocatore più pagato la Juventus è che giustamente il ragazzo giovane sa che è forte ha bisogno di nuovi stimoli e soprattutto vuole provare a vincere questa belletta coppa che forse in tre anni ha capito che con la Juventus non è cosa siccome comunque è uscito tre volte aiutami di finale ragazzi capite che tre volte aiutami di finale se è la Juventus è un po' è un po' triste come cosa veramente un po' triste invece col Bayern ha le sue possibilità perché sì è vero il Bayern perde i Lewandowski però i giocatori ne ha ha preso Mané ha preso Gravenberg ora più a delict cioè il Bayern è una campagna acquista della madonna ha perso un bomber come Lewandowski che non lo potrà sostituire secondo me andrò qua un attimo via la luce non so perché va via la luce temporale non ce n'è e quindi è difficile però vabbè ragazzi niente potrei parlare ore e ore su delict ma in molti l'hanno criticato eh Matais in molti lo sottovalutano a questo giocatore secondo me perché ha fatto male in questi tre anni ma io le motivazioni perché ha fatto male in questi tre anni ve l'ho anche dette e per me sono motivazioni valide ragazzi se vi è piaciuta c'era un bel like mi raccomando come da questi due commenti fatevi sapere un po' cosa ne pensate appunto della QD o di Matais Delict che va al Bayern Monaco anche se già si sapeva e se vi fa piacere anche iscrivetevi al canale che è importantissimo non costa nulla per avere tanto basta clicco, iscrivetevi, siete iscritti e vi incazzo se lo fate che mi supportate così condividete i video con i vostri invece di iscrivere anche loro e attivate le prime notifiche così in più i prossimi video passate anche sul link e iscrivetevi al canale bella ragazzi fino alla fine Forza Juve